Allora signori, passiamo all'ultimo brano? No! Per la mezza l'abbiamo chiuso. Sono 20, quasi 20. Vai con la porca! Una porca! Signori, sono le mezzanotte e venti, questi sono i vedici combattenti di questa strepitosa giornata. La patriglia! La patriglia! Ah, me lo dimenticato la patriglia! Chiudiamo con la patriglia allora! Per la porca! Oye, costa però eh! Facciamo la costa! Che coraggio è da oggi che fanno! Stanno parlando oggi e non so stanno, che coraggio! La patriglia è un'altra! Allora, quando presenta me che faccia il pizzo, vuol dire il segnale che ultimi due passi è... Chiam! ... Grazie.